su pillole d'abruzzo parliamo di transumanza con l'antropologa adriana gandolfi transumanza giusto un anno fa la transumanza l'unesco l'ha accettato la la sua candidatura come patrimonio dell'umanità ed è stato un traguardo importante anche se ormai la transumanza è pressoché finita ci sono i residui di quello che era la grande transumanza è finita realmente l'ultima reintegra venne fatta dai tratturi negli anni 50. Adriana in che cosa consisteva la transumanza? Allora la transumanza era la migrazione stagionale fatta da uomini e animali per raggiungere durante l'inizio dell'autunno i pascoli invernali verso il tavoliere pugliese o anche la campagna romana territorio del gran sasso e per fare in modo che le pecore potessero pascolare e viceversa a primavera quindi le pecore con gli uomini ritornavano verso gli appennini perché il pascolo sulla montagna era fresco e in pianura si sarebbe seccato tutto questo era la transumanza viene da transumare quindi transito e nello stesso tempo l'humus per arricchire il terreno dato dall'etame espulso dalle pecore erano l'autostrada dell'antichità è una cosa che in abruzzo abbiamo da tremila anni da epoca pre romana cioè i popoli italici erano ricchi di pecore e facevano la transumanza dai monti alla marina quindi andavano fino ai territori della attuale molise puglia sempre più in basso e la romanità perché voleva approfittare dell'abruzzo proprio perché approfittava della della pecunia che viene da pecora cioè le pecore con i due raccolti l'anno che davano di carne di latte e di lana soprattutto erano una ricchezza quindi la parola pecunia che significa moneta soldi è data dalle pecore quindi i romani volevano approfittare dei nostri pascoli del che davano poi sull'adriatico per estendere i loro allevamenti quindi i tratturi noi li conosciamo come sono oggi poi da le la legge della dogana della mena delle pecore in puglia che fece alfonso primo d'arragona quando gli aragonesi vollero fare nel centro sud italia territori del loro dominio quello che già facevano in spagna con la cagnada cioè la regolamentazione della migrazione stagionale degli ovini ovi caprini lo stato il regno guadagnava come oggi guadagna l'autostrada cioè ogni pecora doveva pagare il pedaggio però era obbligatorio che chiunque avesse un certo numero di pecore anche limitato anche 10 si dovesse mettere in marcia verso il tavoliere pugliese quindi si consorziavano e quindi avevamo pensate nel 1700 400 mila persone e 4 milioni di pecore quindi è stato l'epoca d'oro della transumanza e come dice il professore alessandro che la mente l'abruzzo storico l'abruzzo ricco l'abruzzo prezioso all'odore della pecora oggi questa ricchezza c'è soprattutto un livello culturale e sono quelli che resistono tra l'abruzzo e il molise ad effettuare ancora transumanze che oggi si fanno anche con i camion e non più a piedi perché dicevo non ci sono più le strade erbose per mangiare e camminare ma sono anche un'eccellenza alimentare e un'eccellenza culturale dell'italia e soprattutto quella meridionale solo nella nostra regione o c'erano anche altre regioni italiane deputate alla transumanza transumanza come conosciamo noi oggi transumanza pennini che eravamo noi abruzzo molise e quella parte della oggi è lazio ma siamo abruzzo che la parte diciamo cicolana che però è abruzzo perché nel 27 venne fatto provincia di rieti anche leonessa amatrice la pasta l'amatriciana viene da amatrice non è alla matriciana è al apostrofo amatriciana col guangiale perché amatrice e abruzzese quindi la gente di amatrice di campo tosto di montereale la campagna romana era il loro punto di riferimento perché la puglia era troppo distante e quindi loro scavalcavano l'appennino più vicini come e perché la transumanza finisce la transumanza finisce quando con l'arrivo dei francesi 1799 quindi la tutta la l'apparato murattiano e napoleonico non capì l'importanza di questa grande industria che invece gli spagnoli avevano potenziato e non tutelarono più i trattori che nel frattempo i contadini si allargavano a prendere i pezzi porzioni di questo terreno fertilissimo quindi la i pastori continuavano a migrare in territori con senza più tutele cioè non c'erano più quelli che custodivano il tratturo seminavano l'erba e facevano in modo che i contadini o altri non si allargassero per prendere queste porzioni di terra ma chi diede il colpo di grazia fu il fascismo mussolini con la politica del grano quando volle far diventare il tavoliere pugliese il granaio d'italia tutti i terreni del demanio che erano terreni demaniali che venivano poi concessi in fitto agli armentari vennero riconvertiti a vantaggio dei latifondisti per seminare il grano la battaglia del grano il grano senatore cappelli tutta la l'economia italiana rifondata sul grano e i pastori si ritrovarono con delle porzioni di terreno da pascolo ridottissime perché non era non era più capita questa grande economia che invece veniva generata dalle pecore da da tanti secoli dall'anni 60 in poi ci hanno costruito le strade hanno costruito di tutto sopra i trattori perché erano delle grandi vie erbose come li descrive d'annunzio era un erbal fiume silente erano larghi 111 metri come le quattro corsie dell'autostrada adriana adriana tu per comprendere meglio questa tradizionale avventura dei pastori abruzzesi sei andata tu stessa con loro per studiare da vicino tutti i dettagli di questa transumanza qual è stata l'emozione più forte l'emozione l'emozione non è che ce n'è una ce n'è è tutta un'emozione quando tu vedi senti il suono dei campanacci delle pecore le mandrie delle pecore non è che ne sono solo una sono tante le mandrie c'è la mandria delle pecore lattare cioè quelle che hanno gli agnelli le più preziose c'è la mandria dei montoni che sono quelli che tengono separati li mettono insieme soltanto quando devono ingravidare le pecore c'è la mandria delle pecore sterpe che sono quelle non più fertili che dovranno essere vendute o soppresse ogni mandria ha un suono e le pecore devono seguirlo e l'emozione è bellissima di sentire i belati i fischi i richiami dei pastori che fischiano perché con il fischio la pecora ha imparato ma anche i cani perché i cani sono addestrati a seguire il fischio del padrone è tutta un'emozione è un suono della natura è un suono e puoi vedere durante questi percorsi io feci delle fotografie bellissime nell'86 che infatti ti ho anche dato quando la trans l'ultima transumanza che transitò per pescara centro vedrai le foto era novembre dell'86 questi sono pastori del terramano ancora ancora fanno la transumanza corta i pastori dei monti della laga perché vanno dove si può transitare fanno una transumanza abusiva non ci sono più tratture e passano lungo il fiume e vanno sul mare così com'era perché il tratturo reggio magno passava sul mare e uscivano ed escono al foro di francavilla pensate ed entrano poi nelle campagne frentane e vedere queste groppe delle pecore che si confondono tra il mare e la sabbia e io ero stata pure fortunata perché era il tramonto novembre si tramonta presto alle 4 il sole non c'è più questa pillola ad abruzzo finisce qui alla prossima pillola sempre con l'antropologa adriana gandolfi con l'antropologa adriana gandolfi con l'antropologa adriana gandolfi